Musica Dai aiutami Ok dai 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 Ok ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Uncharted 3 L'inganno di Drake Stiamo scappando da questi cosi Penso siano scarafaggi Dai Sally muoviti però Aiutami Ma porco Dobbiamo scappare e correre Perché i bastardoni ci hanno fottuto Allegramente fottuto il manufatto che abbiamo trovato Grazie al nostro duro lavoro Abbiamo fatto questo risultato E loro ovviamente Ci devono rompere le scatole Dai però salta Wow Toglimelo 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 Mamma mia Sì Voltati Sei a posto Stai bene? Sì credo di sì Ok là dentro Non ci torniamo Eh no Mi sembra una buona idea Perfetto Dobbiamo andare di qua L'unica via è questa Dicevo Che loro hanno preso Il Gli uomini di Marlo Hanno preso Il Manufatto Dobbiamo trovare una via d'uscita E noi ci siamo fatti Tutti gli enigmi Tutte le cose E come sempre I bastardoni Del gioco Al diavolo Niente da fare La nostra uscita Laggiù Eh appunto Prova a cercare un passaggio Io dovevo andare di là Sarà di qua Ok Stai attento Ok Oh no Attento ne Lo so Lo so Oioioi Mamma mia Sempre fare Invidia all'uomo ragno Come sempre Ma qua crolla tutto Però Quello funzionerà Come immaginavo Ottimo Troviamo il modo di cedere Ehi aspetta Shhh Ok Che stanno facendo Bruciate questo posto Come bruciate questo posto Salle Dobbiamo andarcene Beh non so se ho fatto bene Ad ammazzarli però Hopla Merda non ci voleva Sono in trappola Vanno fuori Sono nostri Dai Merda Merda E' affatto Piccate il fuoco Dove Non è nemmeno Cosa vostra Ma sei scemo Abbatti quella cazzo di grave Resisti Sali Dai Presto Resisti Arrivo Problemi divertissimi Andiamo Vai Oh non capisco dove devo andare Raga Ma Niente da fare Trovare un antur Ci deve pure essere un'uscita E potremo uscire da qua però Non ci fa passare Ok Perfetto dovevo solo sparare alla trave di legno Dobbiamo uscire da qui Mica tanto Ci vediamo dall'altra parte Perfetto Arrivo subito Occhio a terra Come fa a staglia da attraversare? Cioè Jack stava crollando a pezzi Poi questi si sono messi ad appiccare incendi Mamma mia Cioè Jack stava crollando a pezzi Occhio a terra Cioè Jack stava crollando a pezzi Cioè Jack stava crollando a pezzi Tampagate Occhio a pezzi oh ma sto bestione come cavolo lo butto giù scendiamo bastardo e che cazzo via 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 di qua aspetta qua su ecco la porta porca putana tutto bene vai vai merda merda sally sono bloccato aiutami dai giù grazie benissimo andiamo 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 bastardo e mo mamma mia eh un attimo sta crollando tutto tu dai una mano a me e io do una mano a te porca troia continua a salire pozzale di qua almeno qua l'incendio è un po' più wow non ci vedo di qua sono loro questo posto sta per trovare testata atomica oh boom ma anche voi siete stupidi ah lascia amici stare bastardo ma su dove? mi dici su ma su dove? però non posso andare acqua acqua c'è una scala forza ottimo vai oh oh porta sally resisti ma salite oh via oh oh cristalato la stra maledetta torre crolla corri oh via 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 corri corri salite oh oh andiamo 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 sì pare lascia bastardo lascia mi citare bastardo Ehi, lascio! Lascio dove? Mi dici su, ma... Su dove? Però non posso andare Acqua! C'è una scala! Forza! Ottimo, vai! Forza, sali! Resisti! Ma salite! Oh! Oh, via, 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 via! Vai! Corri, corri, sali! Oh, oh, oh! Andiamo! Andiamo sì! Olè! Pezzi di merda! Oh, cavolo! Ci è mancato poco, eh? Eh, no, pochissimo, proprio! Ehi, no, pochissimo, per favore! Oh, sì, meglio di sempre! Sì, dammi un secondo. Ti ho ricordati che ho 25 anni più di te. Che fredda c'è. Ci credono là dentro. Per un pelo, eh? Non ammetto. Sto perdendo il filo. Vuoi ricordarmi perché lo facciamo? No, 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 no. Risparmiami un'altra storia del tipo sono troppo vecchio per queste cose. Nate, questi tizi fanno sul serio. Sì, allora? Che c'è? Vorresti arrenderti ora? Nessuno ha mai parlato di arrendersi. Allora smetti di fare come se stessi morendo, ok? Senti, ragazzo. T'ho coperto le spalle per vent'anni. Non me ne vado da nessuna parte. È ovvio. Voglio solo assicurarmi che lo stiamo facendo per i giusti motivi. Hai fatto una questione di orgoglio di tutto questo. Sei più avventato. Ti ho addestrato meglio di così. Finirai per farti ammazzare il merda. Dio, ci farai ammazzare tutti. Oh no. Cosa? Cutter e Crow. Sali, se seguivano noi. Avranno seguito anche loro. Vanno avvertiti. E andiamo subito in Siria. Spero tu sappia dove trovare l'auto, perché io sono completamente ribaltato. Porco cane. Siria, la notte dopo. Diavolo. Sono ancora irraggiungibili. La cosa deve essere andata storta. Tra quanto riapre questo posto? Qualche ora prima che arrivino le committive di turisti. Meglio muoversi. La catena è rotta. Ok. Ora sappiamo di non essere i primi. Sì. Finché... Abbiamo vettato il ciclo delle morti. Abbiamo fatto la sorpresa. Lo sprecchiamo. Esatto. Ok. Ci intrufoliamo. Scopriamo dove tengono Clou e... Viva l'ottimismo. Sto solo dicendo che non mi sembrano i tipi che prendono stagio. Per... Ora proviamo con la migliore delle ipotesi, ok? Liberiamo Catra e Clou. E usciamo tutti e quattro di soppiato. Sì. Come no? Usciamo di soppiato. Potremmo farcela. Sì, sì. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E... Alla prossima. Ciao, belli!